La mia amministrazione durante la mia sindacatura ha avuto sempre un'attenzione per quelle che sono le due zone decentrate per eccellenza, che sono Cassibile e Belvedere. Nello specifico su Cassibile durante i miei anni ci siamo impegnati, abbiamo portato a termine il rifacimento del campo sportivo, abbiamo portato a termine il pallone tensostatico e abbiamo anche portato a termine tramite l'ANAS, ma siamo stati noi a, come dire, sollecitare in parecchie occasioni, abbiamo trovato però le porte ben aperte, il rifacimento di tutta la via nazionale. Ovviamente poi sul territorio abbiamo fatto anche tanti piccoli interventi, soprattutto nella zona balneare di Fontana e Bianche, legata a impianti di pubblica illuminazione. Per quanto ci riguarda, una delle assolute priorità che possono essere risolte su Cassibile grazie anche ai fondi del PNRR è quella di Contrada Palazzo, una zona di Cassibile che per troppo tempo è stata trascurata e abbandonata, necessita di un porto economico straordinariamente importante, ma con la disponibilità di questi fondi siamo certi di poter affrontare il problema e di programmare in maniera sera un intervento strutturale che mette in condizione i residenti di quella zona di essere soddisfatti di vivere in un contesto omogeneo al resto della cittadina di Cassibile.